I Lakers si trovano davanti a dei Phoenix Suns che vedono un Kevin Durant, che sta facendo una grandissima stagione, se ne parla anche poco, e un Devin Booker che, non lo so, sta giocando point guard in una maniera che forse non ci aspettavamo. È vero che l'ha fatto nei playoff, però è lui la vera point guard dei Phoenix Suns, anche lui sta facendo una gran stagione. Come vedi questo match-up e come vedi queste due squadre, Ricky? Beh, innanzitutto c'è un discorso da fare, secondo me, sulla avidità. E la gestione dell'avidità, perché questi giocatori, che quindi non riguarda soltanto le Lakers e Suns, motivati per l'in-season tournament da alcune centinaia di migliaia di dollari, ci mostra che la carota per farti muovere a forma di dollaro di zio paperone funziona sempre e credo che da un punto di vista della leadership questo sia l'interesse di LeBron James. Credo che a LeBron, con quei soldi ovviamente ci si potrebbe forse arrotolare una sigaretta, ma credo che gli interessi moltissimo per questioni di spogliatoia, credo che gli interessi a tutti i leader delle squadre, quelli meno interessati a cifre più piccole, gratificare role player, gratificare la panchina, creare un bel clima, Eh sì, perché come abbiamo detto, quei soldi non sono niente per LeBron, ma sono molto per i cantinari. Certo, ma sono soldi veri per uno che magari guadagna qualche milione, comunque non è poco. Sì, però in una botta sua. Non è male. Questa sincronia nel bere che ci dà un momento di vuoto. Siamo idratati entrambi. E quindi sì, credo che sia una cosa che fa parte della gestione della squadra e credo che LeBron e i Lakers abbiano dimostrato, secondo me, di dare importanza in modo intelligente a questo in-season tournament. Per quanto riguarda lo scontro con i Suns, in teoria sulla carta i Lakers erano una squadra più profonda di quella di Phoenix, troppo, come posso dire, che troppo ha sacrificato per avere le sue tre superstar, che poi sono due in campo disponibili adesso. Sulla carta un grande Anthony Davis, che c'è quando c'è, a volte, non lo sappiamo, vediamo, sono partite a eliminazione diretta. Mi aspetto un grande Anthony Davis. Sulla carta io dico Lakers e penso che i Lakers abbiano tutto quello che serve per fare molto bene, però Kevin Durant sta giocando, che sembra veramente questa cosa, totalmente irreale. sta giocando uno dei migliori basket, almeno da un punto di vista offensivo, della sua carriera. David Booker è un assassino, è un killer, c'è poco da fare. Non è un mostro di simpatia, forse, ma è un giocatore straordinario. Tra l'altro Kevin Durant, mi sembra che ci dimentichiamo continuamente il fatto che un paio di anni fa si è dovuto riabilitare da una rottura al tendine da kill e che un tempo avremmo detto che è fase discendente della sua carriera, da quando è tornato sta giocando il suo miglior basket. Lui sta tenendo, lui sta veramente continuando la rivalità con LeBron James a livello di quelli che sono i suoi standard, sono i miei standard. E se non ci fosse LeBron, parleremo di Kevin Durant tutte le settimane, perché non ha senso e non ha precedenti se non ci fosse quello che sta facendo LeBron James. Sì, 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 c'è l'effetto LeBron di spostare l'asticella delle aspettative a seconda dell'età. L'esempio forse migliore negli ultimi vent'anni di un giocatore ad alti livelli a quell'età era stato un Kobe Bryant ma più giovane, pretendine da kill e già ci stupivamo del fatto che a 33 anni facesse vedere le cose che ha fatto vedere nel 2012, ad esempio. Sì, c'è da dire che Kobe si trova poi in un attimo anche in un contesto non vincente a livello di... Certo, però a livello di prestazione individuale e si parlava del fatto che, oddio, si è fatto male perché si è dovuto trascinare la squadra sulle spalle a quell'età e a quell'età erano 32 anni. Adesso abbiamo Kevin Durant, abbiamo Steph Curry a 35 Ma c'è chiaramente anche a livello di medicina sportiva, c'è stato un ulteriore miglioramento. Dobbiamo dare meriti in questo senso anche a load management di cui parliamo in continuazione statisticamente, non sempre dimostrato che funzioni o fatto sta che questi giocatori giocano sempre meglio, sempre di più in un NBA che comunque anche con load management mantiene dei ritmi altissimi, altissimi. Io credo sia anche dovuto al fatto che l'NBA è la lega dei giocatori e i giocatori sono un po' come una famiglia che si aiuta. Questa cosa Lebron l'ha molto importata nell'NBA, l'ha molto diffusa, anche se non tutti la rispettano. Il fatto che si giochi anche più soft in regular season, c'è molto l'idea di ci aiutiamo tutti quanti ad avere una carriera lunga, a fare il meglio per i nostri contratti. C'è una visione molto diversa. Il giocatore NBA rispetto a quello che poteva essere l'epoca di Jordan, Barclay e compagnia, in cui soltanto questi grandi magari potevano permetterci, è molto di meno lo schiavo dei padroni, cioè è molto di meno la carne da cannone dei proprietari, dei coach, ed è sempre di più quello che pretende e detta legge, anche per via dei management che creano delle relazioni che attraversano le varie squadre. Basta pensare a Clutch Sport, praticamente gestita da Lebron James, perché Rich Paul è uno dei suoi più cari amici e partner a livello di business. E quindi il discorso load management ha tutta un'altra portata. Detto questo, arrivano queste partite, giocano quindi due senatori così importanti. È importante che nessuno dei due sia infortuni, sarà una partita più tesa, sarà una partita più dura. Io spero ovviamente che nessuno esca dal campo con un infortunio. Questa è la cosa più importante, anche pensando ad Anthony Davis. Dico Lakers, mi piacerebbe molto, ovviamente come a tutti, proprio per una questione di... è la prima edizione, promuoviamola, no? Mi piacerebbe molto la finale Lakers-Celtics. Eh sì, volevo arrivare proprio lì, in effetti. E quindi dico e spero Lakers, ma ovviamente anche Phoenix ha tutti gli strumenti per andare avanti. Guarda, Ricky, io ho le tue stesse speranze e penso do ai Lakers una buona possibilità per il fatto che nella partita singola LeBron James penso veramente possa rivaleggiare con chiunque nella Lakers. Cioè se sa di dover dare tutti in una partita ancora, anche a livello di essere clutch, che spesso viene criticato a LeBron quando invece è una sua grande caratteristica, io penso che possa fare molto bene. Anthony Davis comunque nelle ultime partite sta... innanzitutto si sta svegliando anche nei back-to-back e poi sta facendo un po' di meno nelle ultime partite l'effetto yo-yo, no? Lui ci ha abituati, soprattutto dal punto di vista offensivo, a fare una partita buona e una no, una partita buona e due no. Sono abbastanza sani da questo punto di vista. Hanno una debolezza in difesa dal punto di vista del perimetro, non hanno delle guardie molto fisiche, molto... anche molto veloci, no? Quindi nella difesa perimetrale potrebbero soffrire contro Phoenix. Sarà molto importante Booker che è assolutamente in grado di infiammarsi per una partita e tirar giù i 45 punti in una partita senza troppi problemi. È assolutamente in grado, ma lo deve fare anche Anthony Davis, detta proprio scherzo. Esattamente. Sono due squadre... I 40 punti da Anthony Davis devono arrivare adesso. Sono due squadre in questo senso abbastanza simili, perché sono entrambe capaci di farci vedere con le loro stelle, Durente e Booker da una parte, LeBron e Anthony Davis dall'altra, delle partitone. Secondo me sarà una bella partita questa. È un match-up fortunato dal punto di vista dello spettacolo, perché LeBron contro Kevin Durant tira sempre. Dico anch'io Lakers anche un po' per la speranza di vederli giocare contro i Celtics. A proposito dei Celtics, i Celtics giocheranno contro gli Indiana Pacers, che hanno fatto vedere un inizio di stagione, sopra le aspettative. Assolutamente. C'è un Tyrese Alliborton che sta giocando benissimo, però sarà probabilmente fuori. Però, se non sbaglio, lo vedevo nella lista infortunata. Sì, sì, sì. Non penso l'abbiano definitivamente decretato fuori, però lo sarà probabilmente. Queste sembrano essere le sensazioni. Proprio per questo, dico Celtic senza problemi, i Pacers sono una di quelle squadre che, dicevamo, sarebbe stato bello vedere in un in-season tournament, perché magari a fine stagione non hanno la profondità del roster e le ambizioni per competere nei playoff veri e propri. Vedremo, vedremo. Peccato un po', perché senza Alliborton cambia un po' reduce da partite sopra i 40 punti. Cambia veramente le cose. I Celtics sono molto in forma. Non ci sarà probabilmente Porzingis, vedremo. Anche lui non sta bene. No, no. Porzingis dovrebbe esserci ed è interessante notare che i Celtics stanno purtroppo com'era da noi stato facilmente previsto. Già facendo i conti con Porzingis che è in and out. Eh sì. Ed è purtroppo una caratteristica che sapevamo che si sarebbe presentata. Boston non sembra soffrirne a livello di gioco, a livello di risultati, però è un gran peccato perché... Nei playoff avranno bisogno di uno dei due, tra Porzingis e all'Halford, in forma e nella migliore... Il loro migliore ora all'Halford comincia a essere... I danni iniziano ad esserci. Esatto, comincia a essere fatica a sperarlo. Cioè se Porzingis inizia a saltarti anche l'in-season tournament, cioè vedi che è proprio un tempismo molto molto negativo perché almeno per queste partite eliminazione diretta averlo in campo, no? Io credo che i Celtics possano farcela, naturalmente, però è un brutto campanello. Che forse proprio perché hanno ambizioni di playoff veri i Celtics sono molto cauti con Porzingis e visto che in realtà possono giocarsela con chiunque anche senza di lui sulla partita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Potrebbe essere una scelta buona perché poi rischiare di aggravare un infortunio e vederlo fuori per molto più tempo sarebbe spiacevole. Vedremo in ottica playoff. C'è bisogno di un Porzingis che giochi quasi tutte le partite per poter competere a livello di protezione del canestro con le altre bestie No, sono i quarti di finale, scusa, ho qua la notizia di... Dell'Est. Ha confermato che salta i quarti di finale. Sì, 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 sì. Sarà rivalutato fra una settimana. Vedremo, vedremo. Comunque i Celtics io penso, infortuni da una parte, infortuni dall'altra contro i Pacers, penso che possano vincere questa partita. Sì, sì, certo. Per completare i pronostici, e poi ti dico un'altra cosa su questa in-season tournament, voglio sapere un po' cosa ne pensi. Per completare i pronostici ti dico che i Knicks batteranno i Bucks perché i Bucks non hanno ingranato ancora e penso che i Knicks ci tengano di più. Mi aspetto una gran partita di Jalen Bronson che sta facendo vedere molte belle cose. Per lo me lo aspetto anch'io, ma... Pelicans, li vedo un po' più costanti. Guarda... Dimmi cosa ne pensi tu di queste ultime due pronostici. Voglio dare un po' di pronostici, mi voglio un po' di... Celtics non c'è... tutto è possibile, però anch'io dico Celtics contro i Pacers. Dico Miluoki perché credo che sia Jannis che Lillard, che è una cultura comunque vincente, drizzino le antenne verso l'obiettivo importante. Per quanto si Jalen Bronson è un giocatore che apprezzo moltissimo. E dico Pelicans. Dico Pelicans dai perché voglio... Perché vorrei vederli tra l'altro contro i Lakers, sarebbe divertente. O fossero anche i Suns. E Zion Williamson quando gioca non sta giocando male. Ah no, ancora è sempre un mostro di efficienza. Rimane quel... Lui ha in carriera una centotrentina, centoquarantina di partite. Sono veramente poche. Però quando è in campo continua ad essere quel giocatore lì. Ah, sono numeri straordinari. Uno dei rimbalzisti offensivi migliori di sempre. è un fattore importante e soprattutto un giocatore unico da veder giocare. È chiaro che Zion temo abbia dimostrato in questi anni, forse, di non avere la forma mentis del super campione. Poi gli si dà una chance e si spera che non sia così. Però diciamo che... Quando è... Ha un po' deluso sul versante extra sportivo. Quando è la tua fidanzata barra amante che ti deve motivare per metterti in forma. come sono le notizie circolate in questa stanza. Non suona bene. È quello che tanti campioni del passato hanno detto. Cioè che non sei ancora nessuno, ma hai già le decine di milioni nel conto corretto. Ma tutte le immagini Vanessa Bryant a scrivere sui social che sta facendo di tutto per motivare Comi ad allenare. Io penso sempre a queste storie qui quando escono. Anche se poi in realtà non posso che apprezzare un atleta che voglia poi farsi la sua vita e anche divertirsi. Ma ognuno fa quello che vuole, ma ci mancherebbe anche divertirsi. Però purtroppo... Non giudico mai la persona a James Williams, ma faccia quello che gli pare, come vuole lui. E però ovviamente se da appassionato di NBA pensi al giocatore che potrebbe essere. È il discorso di se lì dentro ci fosse una testa alla Kobe, per quanto il fisico sarà sempre problematico. Però mi piacerebbe, siccome ce l'abbiamo sano, la squadra comunque ha dei buonissimi giocatori intorno a lui. Ma per una volta vedo uno Zion Williamson a Las Vegas che dà spettacolo e magari arriva anche in finale. Mi piacerebbe vederli vincere, quindi dico Pelicans. Anche se sono scettico, come te. Las Vegas, o meglio, il sito di scommesse FanDuel da come favoriti Celtics. Per vincere tutto. Dai Celtics, secondi Bucks, poi Kings, che effettivamente stanno facendo vedere un'ottima regola del season. Ci può anche stare. E poi, a pari merito, Suns e Lakers. Quindi... Ok, ok. È realistico. Non so se avrei messo i Kings così in alto, ma tutto sommato battessero... battessero Suns e Lakers, se si troverebbero in finale. Non lo so. Ci può stare. Mi piacerebbe vedere i migliori e più spettacolari campioni che abbiamo brillare nelle partite d'eliminazione. Ovviamente per i brand, per la promozione. Celtics, Lakers è sempre la superclassica, no? Le due squadre più vincenti della storia dell'NBA. Che così battezzerebbero, darebbero legittimità, no? A questo torneo. Perché se tu hai una finale, faccio per ridere, Pacers, Kings... Qual è l'immagine dell'Inciso Tournament? Sì, viene un po' poi la storyline del fatto che i giocatori non ci credono abbastanza, che le star non si impegni. E poi non ci sarebbe nulla di male. Voglio dire, se vincono, vincono. Il punto è che se vanno Lakers-Celtics, invece... Ah, ma quindi già a dicembre abbiamo una cosa così? Chissà se parleremo di errori arbitrali in questo senso. Già da giovedì... Già da giovedì... Si fa peccato, ma ci si azzecca. Stiamo a vedere. Stiamo a vedere.